Negli ultimi tempi la quantità di chiamate pubblicitarie che riceviamo e in cui ci vogliono vendere di tutto non so voi ma me sono aumentate a dismisura e anche molte applicazioni che riconoscono e bloccano i vari numeri dei cosiddetti scocciatori purtroppo non funzionano sempre benissimo. Cosa quindi possiamo fare per mettere fine a questo calvario? Una cosa c'è, cioè l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni assieme però a un altro paio di mosse. Se fate tutto avrete delle buone chance di bloccare totalmente o quantomeno diminuire di molto le chiamate indesiderate. Nei prossimi minuti quindi vediamo che cosa fare e vi ricordo che se troverete questo video utile in qualche maniera lasciare un mi piace e iscrivessi al canale è importante per portare questa informazione da altre persone che potranno beneficiarne oltre ovviamente a supportarmi. Il registro pubblico delle opposizioni è stato rinnovato da poco, da metà luglio, infatti non è qualcosa di totalmente nuovo ma a quanto pare il vecchio registro non funzionava più a dovere. Quel che è passato è passato. Quindi affidiamoci a questa rinnovata azione a tutela del cittadino che ha lo scopo di mettere un freno al telemarketing e a tutti gli scocciatori. Il registro pubblico delle opposizioni è quindi un servizio pubblico, è gratuito ed è per tutti coloro che non vogliono più permettere alle aziende di essere contattati sul proprio cellulare, sul telefono fisso o addirittamente a casa. Infatti aderendo a questo registro si può chiedere anche che non vengono più inviate lettere e volantini vari a casa. L'iscrizione al PRO, quindi pubblico, registro, opposizioni, è semplice e veloce. Infatti basterà andare sul sito web registro delle opposizioni.it, cliccare su Entra dove è indicato il servizio per il cittadino e poi cliccare su Iscriviti. A questo punto dovrete effettuare l'accesso al portale, potete farlo tramite speed o tramite altra autenticazione. Dopodiché basterà seguire le varie schermate inserendo tutte le informazioni sulla vostra persona e ovviamente il numero di telefono, l'indirizzo su cui non volete essere più disturbati. C'è chiaramente la verifica che il vostro numero di telefono sia effettivamente vostro e poco altro. In questa fase potrete anche effettuare l'iscrizione di un numero di telefono fisso se vi rompono le balle a casa o anche di un indirizzo postale per evitare che vi vengano inviati i volantini e altre pubblicità. Insomma, di base tutto quello che volete bloccare, allora potete procedere a inserire le varie informazioni. Il blocco delle chiamate non è immediato, nel senso che la vostra richiesta potrebbe richiedere fino a qualche giorno per essere processata. Di conseguenza il mio suggerimento è, dopo aver effettuato l'iscrizione, di controllare il giorno dopo o al massimo quello dopo o ancora, sempre collegandovi allo stesso sito seguendo però il link, gestisci iscrizione. Dopo aver effettuato l'accesso vedrete se il vostro blocco è attivo o meno. In seconda battuta dovrete portare pazienza fino a 15 giorni dopo la richiesta di iscrizione dei vostri numeri telefonici o fino a 30 giorni per i blocchi della posta fisica. Le varie aziende hanno l'obbligo di aggiornare i propri registri, appunto ogni 15 e ogni 30 giorni, per rilevare nuovi numeri di telefono bloccati su cui non possono più fare azioni marketing. Questo significa che se avete effettuato l'iscrizione e non sono passati questi giorni, aspettate un attimo prima di dire non serve a un cavolo, non funziona, eccetera, eccetera. È importante capire che ci sono delle esclusioni, cioè anche se voi vi iscrivete al registro pubblico delle opposizioni potrete continuare a ricevere degli sms di pubblicità, le varie mail e i vari contatti da parte di aziende e operatori con cui avete un contratto in essere o il cui contratto è cessato da meno di 30 giorni. Cosa significa? Se ad esempio avete un numero di telefono con Vodafone e quando avete sottoscritto quel contratto o avete aggiornato il contratto, avete dato il consenso di ricevere delle informazioni, marketing sulle promozioni, l'iscrizione al P.R.O. non sovrascriverà questa decisione. Cioè anche se vi iscrivete al P.R.O., Vodafone, un altro operatore di telefonia, di elettricità, di gas, di altri servizi, continuerà a chiamarvi. È quindi importante verificare questa cosa sempre prima di dire che il registro non funziona. Non perché mi aspetto che sia impeccabile, sia chiaro, ma perché è possibile che non dipenda da questo. Quindi se state continuando a ricevere delle chiamate e avete verificato che vi chiama qualcuno con cui avete un contratto attivo, come ad esempio il vostro operatore telefonico, dovete agire direttamente sul vostro contratto del vostro operatore per far cessare le chiamate, gli sms e gli altri sistemi con cui vi mandano promozioni. Ad esempio, a me è successo così, ho fatto l'iscrizione, sono passati i 15 giorni e mi chiama Vodafone per la solita offerta. Mi girano le balle e poi sono andato a vedere nella sezione privacy di Vodafone e avevo il consenso e l'invio di offerte marketing attivo. Ovviamente mi è sembrato strano che fosse attivo, che avessi dato il consenso, in ogni caso era così, quindi l'ho disabilitato. Per revocare i vari consensi, il modo per farlo dipende ovviamente dal fornitore. Con Vodafone si fa nell'app o il suo sito web nell'area privacy, con Timi si può chiamare il 119 o guardare nel sito sotto consensi e privacy, con Win potete farlo dall'app nella sezione gestione consensi, insomma dipende dall'operatore, dal fornitore di servizio. Vi consiglio, in base all'azienda che volete bloccare, di ricercare magari su Google revoca consensi pubblicità seguita dal nome dell'azienda o una ricerca simile. E' anche possibile che, strada facendo, possiate dare il consenso a qualche altra azienda di contattarvi per pubblicità, magari tramite qualche azione, qualche servizio online. Ecco, magari non sempre si pone, come dire, la giusta attenzione a tutte le volte che diciamo va bene, va bene, va bene e scappa quel consenso. Quindi, se avete fatto l'iscrizione al PRO a un certo punto, iniziate a ricevere chiamate da altre aziende, vale la pena rinnovare l'iscrizione al regista delle opposizioni. Per farlo è sufficiente entrare nel sito, dove vi siete iscritti, come vi ho fatto vedere prima, da quel link seguite il gestione e iscrizione e cliccate su rinnovo, in maniera tale che, da quando rinnovate, qualunque altra azienda che nel frattempo possa aver aggiunto il vostro numero alle sue liste, venga nuovamente bloccata. C'è la possibilità che, nonostante tutto, continuino a rompervi le balle. In questo caso, l'unica cosa da fare è procedere con una denuncia degli stessi. Come dire, ci sono vari contatti, quelli del garante della privacy, quelli dell'Agicom, che possono essere raggiunti facilmente mandando mail. Si compila un modulo molto veloce, l'ho già fatto un paio di volte, si spedisce via mail, ci mettete un paio di minuti e comunque fate, come dire, anche il vostro dovere nel cercare di bloccare queste aziende che se ne fregano altamente di quello che alla fine è un vostro diritto. Io vi riporto la mia esperienza personale. Dopo che ho fatto l'iscrizione, dopo che sono passati i termini, no, quei giorni che bisogna aspettare, dopo che ho controllato i vari servizi che ho sottoscritto, io vi dico che effettivamente posso dire che più o meno ho il 90% delle chiamate in meno. Qualcuno ogni tanto viene fuori, però c'è stata una riduzione veramente importante. La cosa più esemplare che successe è che appunto sono stato ricontattato dal mio operatore telefonico e proprio in quel momento mi sono accorto che non era colpa del PRO che non funzionava, ma perché io avevo quel consenso attivo. Una volta che l'ho disabilitato non mi ha più contattato. Chi mi ha detto che ha fatto l'iscrizione e poi mi ha detto subito eh però l'ho fatta ma non è cambiato niente, ecco in realtà veniva poi contattato da quelli con cui aveva un contratto di utenze attivo. Quindi è importante molto questo secondo passaggio per cercare di far funzionare il tutto. Io non posso dire che funziona perfettamente senza alcun dubbio, posso però dire che in ogni caso è qualcosa da fare, ci si mette veramente poco e sicuramente può aiutare a diminuire e a limitare gli abusi. Grazie per avermi seguito in questo video, se volete parlarne facciamolo qui sotto nei commenti e come al solito lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!